La testimone chiave è morta, crede che sia stata uccisa? Non lo so. Chi era? Una ragazza del racket che aveva accettato di parlare. Sara, mi dispiace, dovrei testimoniare. Il giudice del V è uno dei suoi clienti? No, io so che vi vedete voi due. Sara mi diceva tutto. Quanto vuole? Sì, 20.000 euro più le spese. 20.000! Sai che differenza c'è tra te e me? Se una puttana si fa ammazzare a causa mia, questo mi pone un grosso problema di coscienza. Chiudi quella bocca! Non l'ho uccisa io! Perché dovrebbero farmi del male? Sono la dea dell'amore. Dobbiamo smetterla con questo gioco al massacro. Tu hai paura. È brutto quando un uomo ha paura. Ma cosa hai fatto, Sara? Cosa hai fatto? Tutto tornerà come prima, lo sa perché? Perché in quell'ambiente detestano lo scandalo. Grazie. Grazie.